buonasera buonasera a tutti e buonasera ai presenti questo è il tavolo dei postali una nuova puntata di questa di questi incontri di questo ciclo duemilaventiquattro sempre organizzato dall'istituto di studi storici postali aldo cecchi odivi dall'unione stampa filatelica italiana dal ministero dal museo storico della comunicazione di roma che fa capo peraltro al ministero al mimist e poi dalla quotidiana online di notizie filateliche postali per cari news questa sera abbiamo un nuovo ospite e un nuovo argomento che secondo l'attrice artistico siamo già confrontati un po sull'argomento per me anche una forte una forte valenza sociale il e di mariangela caposela che vi parlerà di corrispondenze immaginarie prima però vorrei fare fare i saluti anche alle altre persone beniamino bordoni che presidente dell'unione stampa filatelica italiana prego allora buonasera a tutti vi dico che divulgare la filatelia la storia e le storie della posta raccontarle con passione con competenza con professionalità sono gli scopi istituzionali dell'usfi l'associazione che raccoglie i giornalisti e gli autori che scrivono appunto di franco bolli e di posta e l'usfi lo fa non solo attraverso modalità tra di diciamo tradizionali come gli articoli libri le pubblicazioni varie ma anche attraverso iniziative diverse come i corsi validi per ottenere i crediti formativi per l'ordine dei giornalisti dove uno degli obiettivi è quello di spiegare la filiera della filatelia e anche cercare di dare informazioni per smentire alcune fake news quindi diffondere la cultura filatelica e postale è possibile secondo l'usfi anche attraverso conferenze sia in presenza che via zoom proprio come quella di questa sera ed è per questo che l'usfi è un partner istituzionale proprio del tavolo dei postali detto questo vi auguro una buona serata grazie beniamino graziella rivitti attrice responsabile del museo storico della comunicazione eccomi buonasera a tutti e tutte e riprendo le parole sulla racconto e quindi sulla scrittura e il racconto del museo storico della comunicazione la funzione è proprio quella di raccontare noi appunto partiamo da un racconto storico che risale alle prime tracce di scritti fino ad arrivare appunto alle lettere alle comunicazioni telegrafiche alle comunicazioni telefoniche e al racconto per immagini alla televisione questo è il percorso nel museo storico che ovviamente poi ha anche quello che è il suo tesoro che riguarda la parte filatelica e la parte quindi di questo racconto che diventa un piccolo quadratino che anche lì è un racconto storico racconto dei fatti un racconto della società un racconto di noi persone e oggi in particolare è stato emesso un piccolo ma grande franco bollo per ricordare una persona notevole una grande un grande visionario un grande uomo si chiamava franco bisaglia oggi sarebbero stati cento anni che avrebbe festeggiato non a caso forse è un caso non si sa oggi abbiamo a che fare con una conferenza che in qualche modo ce lo richiama e invito a a guardare un video che posterò e metterò nella 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 chat in cui si si vede le le missioni di annullo che è stata fatta oggi per il franco bollo a roma al quello che oggi chiamiamo il museo della mente alla santa maria della pietà e e niente è stato un grande medico che ha cambiato la prospettiva del dell'approccio a quelli che erano considerati gli ultimi della società e che ha riportato a loro il rispetto e l'onore di essere ascoltati e buona serata a tutti e a tutti bene grazie grazie la adesso passiamo la parola alla protagonista di questa sera puoi togliere il mutuo al è perfetto sei abilitata la condivisione già da prima sì allora saluto tutti e ringrazio gli organizzatori ringrazio fabbio bonacino in particolar modo con con te mi sono interfacciata fin da diversi mesi fa e e ringrazio anche tutte le persone che partecipano a questa riunione e sono sono contenta di intervenire in questo contesto di che è un contesto di di forte attenzione portata alle corrispondenze postali e di intervenire però per parlare di un progetto che è basato sulla creazione di una corrispondenza particolare è una corrispondenza che convoca l'immaginazione e che per questo si trova in sintonia anche con la rassegna organizzata dal dal tavolo dei postali e mi fa altresi piacere di esserci perché in perché è sempre bello che mondi improbabili che difficilmente hanno l'occasione di incontrarsi si attragano proprio attraverso il prisma dell'immaginazione di cui c'è veramente molto bisogno e siccome si tratta di un di un progetto abbastanza articolato e che si snoda in diverse fasi è basato sulla lentezza e quindi si sviluppa anche molto nel tempo vi propongo di seguirlo attraverso attraverso alcune immagini che vi ho preparato e con qualche anche intervento di insomma qualche sintesi dei testi per permettervi di seguirlo un po' più facilmente allora vediamo la condivisione si funziona eccola qua ok allora si tratta di c corrispondenze immaginarie dove c sta sia per le iniziali di corrisponde le parole corrispondenze e immaginarie ma sta a indicare anche un'idea di reciprocità come vedremo e poi anche di un rimando all'energia quel c del che designa l'energia cosmica è un progetto di arte pubblica ovvero si situa in quel tipo di arte che si realizza attraverso l'attivazione di progetti partecipativi e pubblica perché perché è un'espressione artistica che privilegia lo spazio pubblico inteso res pubblica come cosa pubblica predilige ma in qualche modo si dialoga con questo spazio pubblico e la posta appunto fa parte dello spazio pubblico nella circolazione del progetto allora delle corrispondenze immaginarie ci chiediamo in che cosa sono immaginarie e intanto di che cosa si tratta si tratta di una corrispondenza che si sviluppa a partire da lettere che non sono mai state inviate scritte da pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici prima della riforma Masaglia ovvero quando le relazioni col mondo esterno erano vietate, erano precluse a quelli che erano definiti internati e queste lettere venivano trattenute quindi non erano inviate e andavano a far parte della cartella clinica quindi perdevano lo statuto di lettera per diventare un documento sanitario questo statuto è quello che queste lettere conservano ancora oggi quindi non sono lettere e sono documenti e cosa vuole fare, cosa si propone di fare il progetto è appunto quello di recuperare lo statuto di lettera ovvero recuperare quello statuto e cercare attraverso appunto processi di partecipazione di dare oggi una risposta a quelle lettere che non hanno mai ricevuta quindi vedete che si esce dal mondo delle corrispondenze ordinarie dove c'è un mittente che invia una lettera a un destinatario che può meno rispondere e si entra invece in un mondo della creazione dove si fa appello all'immaginazione si fa appello all'immaginazione e alla partecipazione appunto per prendersi cura delle parole dell'altro infatti allora i mittenti e i destinatari cosa succede? che i mittenti non sono più gli autori delle lettere ma sono io insieme alla struttura organizzatrice del progetto e i destinatari non sono più quelli designati dagli autori delle lettere ma sono i partecipanti, sono tutte le persone che prendono parte del progetto chiedendo di diventare destinatari dopo vedremo come allora dicevo che si tratta di arte partecipata e quindi che cosa che implica implica la presenza di diversi e numerosi soggetti per farlo per mettere in moto e per far esistere e per realizzare il progetto il primo ente, la prima struttura di cui voglio parlare è quella che in questa tappa del 2024 realizza con me il progetto e si tratta di Hangar Teatri di Trieste perché dovete sapere che appunto le corrispondenze immaginarie sono iniziate nel 22 ma appunto sono plurali, corrispondenze immaginarie perché si sviluppano, c'è l'intento insomma di portare in diversi luoghi il progetto e in ogni luogo in cui il progetto arriva c'è una struttura portante, organizzatrice che provvede all'organizzazione e anche alla parte molto importante che è quella del coinvolgimento del territorio come vi accennavo il progetto, la tappa di quest'anno si svolge nelle città di Trieste e di Gorizia e questa compagnia, questa giovane compagnia di teatro Hangar è un luogo di produzione culturale che è caratterizzato da un'offerta delle scelte di programmazioni che spaziano in diverse espressioni artistiche non solo il teatro perché come vedete si confrontano anche all'arte contemporanea alla poesia e alla danza la direttrice artistica di Hangar Teatri Valentina Milan che definisce così questo spazio è uno spazio libero Hangar è uno spazio libero accessibile a tutti accogliente che rende possibile ciò che prima era solo immaginato quindi capirete subito che ci siamo intese siamo entrati in sintonia molto facilmente con appunto una compagnia che ha queste prerogative a differenza dell'ente organizzatore che cambia a seconda delle tappe che si realizzano la curatela artistica del progetto invece segue il progetto fin dal suo inizio cioè fin dal 2022 Volterra ed è portata avanti da Titolo che è un collettivo di curatrici storiche di curatrici di storiche e critiche d'arte fondato nel 1997 a Torino e che ha la specificità di indagare e promuovere proprio la relazione fra l'arte e la sfera pubblica ed anche il contesto sociale di questo collettivo oggi sono cambiate molte persone nel corso degli anni di questo collettivo fanno parte oggi Francesca Comisso che è una delle cofondatrici e Giulia Crisci che è qui presente che vi potrà parlare più nello specifico anche del ruolo della curatela artistica e del taglio particolare di arte alla quale a titolo si interessa tra gli altri partner che intervengono nel progetto di Trieste e Gorizia ci sono altre entità che intervengono in modi diversi ad esempio l'Accademia della Follia una compagnia di teatro fondata negli anni proprio dell'elaborazione della riforma di Basaglia che è composta appunto da pazienti da pazienti psichiatrici che interviene in diversi momenti in particolar modo nelle scuole che come vedremo sono altri altri soggetti implicati nel progetto sempre su Trieste e Gorizia interviene anche la cooperativa La Collina che ha fatto uno straordinario lavoro di costituzione dell'archivio di Gorizia che sarà che sarà si spera aperto a breve e che è pronto per essere aperto al pubblico e La Collina interviene anche anch'essa come struttura con gli studenti in particolar modo per parlare di sia di archivistica che di privacy con gli studenti e organizza le visite sui luoghi della storia della psichiatria di queste due città poi c'è il comune di Gorizia che ci ha dato il patrocinio e i comuni nei progetti di arte partecipata sono sempre entità da coinvolgere e con cui lavoro praticamente sempre occupandolo dello spazio pubblico perché appunto è attraverso il comune che si dispiega anche proprio la partecipazione negli aspetti che sono più legati alla gestione proprio dello spazio pubblico poi chiaramente interviene anche l'azienda sanitaria locale che in Friuli Venezia Giulia si chiama Asugi perché come vedrete abbiamo tutta una serie di ci sono tutta una serie di passaggi legati alla ricerca d'archivio dove è indispensabile appunto anche l'apporto e la partecipazione dell'azienda sanitaria che è proprietaria dell'archivio ora la parte più numerosa è quella dei partecipanti cioè di tutte le persone che aderiscono spontaneamente rispondendo alle chiamate a partecipazione alle call che aderiscono al progetto e sono per quanto riguarda la partecipazione a diventare destinatari la chiamata è aperta tutta Italia e invece è più specifica e rivolta agli abitanti di Trieste e Gorizia quella invece che riguarda la creazione delle lettere che poi verranno inviate inoltre in particolar modo a Trieste e Gorizia stiamo lavorando con gli studenti della scuola superiore che hanno che sono che hanno che hanno una storia che conoscono bene ma che appunto avranno attraverso il progetto un modo di vedere di vivere di vivificare in altro modo appunto la storia della della riforma psichiatrica che ha appunto rivoluzionato il mondo il modo di appunto approcciare quello che è stato invece sempre separato dalla dalla società che è appunto la la follia e poi alla fine ci sono anch'io sono una un'artista con una formazione variegata ecco dalla dalla letteratura all'arte contemporanea ho 54 anni e vivo a Lione da 20 anni ma sono sono italianissima ecco e da nell'ultima parte della l'ultimo periodo insomma della mia attività artistica mi sono dedicata da circa 12 anni alla creazione proprio di opere di di arte partecipata che si svolgono in particolar modo quasi sempre sullo spazio pubblico questo perché mi insomma fa parte del mio modo di vedere un po' il senso dell'arte che per me si realizza innestando delle energie fra persone che che non si conoscono e e non per forza ecco essendo confinati nel in quelli che sono gli spazi attribuiti all'arte quali spazi espositivi e e musei ecco mi piace andare fuori per la strada mi piace l'idea dell'artista che che semina perché nel mondo contadino appunto nel sud dell'Italia si dice andare fuori proprio per andare in campagna ecco questo andare fuori mi ha sempre cioè mi ha sempre mi ha attirato negli ultimi nell'età matura diciamo ecco adesso per capire un po' come come si realizza poi questa questa corrispondenza vi ho riassunto le quattro fasi che la caratterizzano che si svolgono in modo parallelo o una alla volta a seconda del contesto c'è una prima fase che è che è quella della creazione della rete dei partner locali cioè dove il progetto va a sviluppare una tappa serve proprio una rete di come avete visto di diverse entità coinvolte e poi come seconda tappa che può essere parallela anche alla prima e che ha durata variabile anche anche essa è quella della ricerca d'archivio ovvero le lettere che saranno poi copiate inviate trascritte inviate sono dei documenti d'archivio e quindi sono da sono da tirare fuori dagli archivi è una fase che appunto può durare anche molto tempo perché proprio per lavorare nel rispetto della legge sulla privacy ci sono tre entità coinvolte e che devono dare il loro assenso e che devono appunto dare anche un'interpretazione specifica perché un archivio può essere appunto c'è una legge generale sulla privacy ma ogni archivio poi può anche apportare modifiche e dare ulteriori limiti e quindi i tre soggetti sono l'azienda sanitaria locale perché gli archivi sanitari sono di proprietà delle ASD ma poi c'è anche sono allo stesso tempo le lettere sono allo stesso tempo un bene pubblico che è tutelato dalla soprintendenza archivistica e che però è gestito dall'archivio specifico che può essere un archivio di stato o di altra natura quindi capirete che è un po' dopo magari c'è qui Giulia Crisci che potrà anche dire qualcosa se qualcuno vorrà sapere nel dettaglio un po' meglio visto che si parlava prima di legge sulla privacy le specificità che abbiamo potuto riscontrare cercando appunto di realizzare il progetto in ogni caso sappiate che appunto noi ci atteniamo per realizzare il progetto ci atteniamo a tutte le regole volute dalla legge sulla privacy e dagli archivi perché si tratta comunque di un materiale particolare e particolarmente sensibile ora per andare al cuore più pulsante del progetto vi parlo dell'azione partecipativa come si innesca questa azione l'innesco appunto sono le chiamate le chiamate a partecipazione e ce ne sono due oggi si apre la prima che è quella in cui si chiede ai partecipanti di diventare destinatari della lettera inviando un messaggio al numero di telefono attribuito al progetto che è il 351 3805 476 e appunto quest'anno in questa tappa di Trieste-Gorizia abbiamo voluto aprire la call in onore di Franco Basaglia proprio oggi che come è stato detto all'inizio conferenza ricorre il centenario della sua nascita e Franco Basaglia che proprio nelle città di Trieste-Gorizia ha lavorato e ha elaborato quella che è diventata la legge 180 che porta il suo nome che non è solo una legge ma se avessimo il tempo di svilupparla è anche risultato di un movimento che ha un anelito sociale molto molto forte e che riguarda appunto non solo la sfera specifica della psichiatria ma una visione diversa della società e in questo ecco nel suo piccolo ciclo di corrispondenza immaginaria appunto si avvicina a questo questo sentimento ecco questa è la prima call e poi c'è un'altra call che riguarda invece che si svolge che riguarda la realizzazione la produzione delle lettere trascritte a mano durante quelli che ho chiamato scrittori pubblici facendo eco un po' al concetto dello scriptorium medievale ovvero quella che era l'officina scrittoria dove gli amanuensi si riunivano per eseguire il lavoro di trascrizione di quei testi che venivano scelti per essere tramandati venivano scelti per essere salvati e allo stesso modo chi partecipa allo scrittorio pubblico diventa appunto un pubblico copista chiamato un po' a salvare dall'oblio e dalla reclusione le parole contenute in queste lettere che sono rimaste mute per per almeno 70 anni se non di più in molti casi anche di più ecco gli scrittori vengono allestiti negli spazi pubblici e sono che cosa succede durante lo scrittorio non c'è un solo gesto meccanico di copiatura ma è un momento di condivisione anche proprio del gesto manuale che si sta perdendo sempre di più e anche di riscoperta di tutto quello che c'è dietro alla scrittura manuale questo gesto che sembra così banale che invece è un passaggio importante tra quello che è il pensiero e il corpo e che rimane traccia e che va a fare va a costituire la traccia più importante di quello che poi rimarrà nell'opera che si va a creare collettivamente le tre ore che durano diverse ore a seconda del contesto e l'azione conclusiva dello scrittorio è quella di un'ultima trascrizione che si fa su un rotolo unico di carta velina il rotolo riprende sempre lo stesso concetto appunto di questa estetica un po' della scrittura manuense parallelamente allo scrittoio pubblico viene organizzato quello che ho chiamato ufficio protocollo dove appunto ci sono tutte quelle azioni necessarie per confezionare la lettera e prepararla all'invio vengono apposti timbri vengono piegate le carte veline appunto delle trascrizioni c'è tutto un lavoro appunto di packaging di confezione poi si tiene un registro degli invii con i codici corrispondenti per ritrovare a quale lettera il destinatario sta rispondendo allora come vi ho detto finora c'è una fortissima componente partecipativa ma c'è anche una ricerca artistica che sta dietro che sta un po' nell'ombra di quello che poi si va a vedere nella grana della lettera che la persona che partecipava va a ricevere a casa e la ricerca formale insomma per me va ad attingere a mondi che come le lettere sono abbastanza separati da quello che è la pratica artistica come per esempio il mondo della calligrafia che reputa insomma che è tenuto a distanza dalle arti come altre manifestazioni artigianali e che invece mi ha affascinato moltissimo e un'altra affascinazione frequentando dovendo frequentare appunto i documenti ma non solo anche già anche già da prima c'è una affascinazione particolare anche per tutto quello che è il mondo dell'archivistica e quindi nell'estetica poi degli elementi che vanno a comporre l'opera ci sono cose che appunto riprendono un'estetica legata all'archivistica ma che non è solo estetica è anche funzionale perché appunto ho creato un sistema molto minimalista di codici che mi permettono di sapere chi sta rispondendo a quale lettere quindi c'è un codice di numero particelle e un codice di numero di lettere che appunto corrisponde al timbro C e il timbro invece particella corrisponde al destinatario ecco qua ci sono un po' tutti i timbri e con i timbri poi si lavora in ogni tappa si ampliano che la base dei timbri della prima tappa adesso sarà arricchita dai timbri che saranno proposti dagli studenti delle scuole superiori con i quali ho cominciato a lavorare proprio su una fase di creazione anche su proprio su dare un logo specifico allo scrittoio che partecipa alla trascrizione per esempio e come vedete appunto c'è un timbro per lo scrittoio pubblico ecco questo è per lo scrittoio pubblico con le che porta le iniziali del copista questo è la invece quando sono io la copista ho il mio la mia firma è questa dove c'è una M una A una R una I e una A quindi c'è stava solo Maria in due centimetri quindi mia firma è Maria e poi quello di cui vi parlavo prima il timbro che è dal numero di particella e poi il numero di C invece è apposto sulla lettera col C e il numero della lettera ecco questo è l'interno di quello che potete trovare nella busta appunto c'è la trascrizione manuale ci sono i timbri la velina è racchiusa all'interno di un cartoncino che riprende appunto l'estetica del non solo l'estetica ma anche tutto l'universo di quello che è la cartella clinica e porta il destinatario quando apre la lettera appunto deve slegare il laccio quindi deve fare questo gesto per aprire la cartella clinica aprire e trovare la velina prenderla in mano e confrontarsi a questa fragilità anche del supporto che rimanda alla fragilità anche di tutto invece il contenuto poi c'è arriva quando tutto è pronto e sono state imbustate gli indirizzi sono stati trascritti arriva finalmente l'invio e poi man mano arrivano le risposte e tutto questo è un processo che ha bisogno di diversi mesi noi abbiamo cominciato a lavorare con Hangar Teatri un anno fa e appunto la call si apre oggi e le risposte potranno arrivare fino alla fine dell'anno quindi una volta che la corrispondenza è stata avviata cioè che si è realizzata la corrispondenza c'è un momento in cui bisogna prevedere anche la restituzione pubblica cioè permettere al al pubblico di poter leggere le corrispondenze e io prediligo il carattere carattere intimo della lettera e quindi ho sempre evitato per esempio le letture pubbliche delle lettere o non so le gigantografie delle lettere insomma la spettacolarizzazione della lettera va contro quella che è la sua natura invece che è quella di essere intima e c'è questo gioco appunto tra spazio pubblico e spazio privato che è quello di entrare nelle case che è proprio la lettera e quello che è stato realizzato per la prima corrispondenza di Volterra è appunto stato fatto a Calitri l'estate scorsa allo Sponsfest dove ho coinvolto gli abitanti di Calitri che è un piccolo paese nell'alta Irpinia dove gli abitanti appunto hanno prestato una parte della propria casa per adibirla a spazio di lettura e di ricezione del pubblico che andava si ricava nelle case a leggere le corrispondenze poi come ultima immagine vi volevo mostrare una lettera inviata e la sua risposta e però non so quanto tempo sto parlando se devo smettere se volete ne leggo un pezzo oppure lo lascio alla vostra lettura perché tanto vi rimarrà il documento sono le dieci meno un quarto se poi devono intervenire anche le altre due relatrizi ho finito grazie allora come avevi chiesto adesso se parlano le altre due persone si integrano la presentazione dopo cominciamo con le domande e le osservazioni si se c'è una delle tanto usci dalla dalla condivisione intanto ah devo uscire dalla condivisione scusate se non l'hai se non l'hai più bisogno è meglio ecco ok si non ho più bisogno ecco ecco c'è qui con noi Giulia Crisci che è una delle due curatrici del progetto che vi potrà parlare un po' di non lo so di un aspetto particolare del progetto oppure anche solo del ruolo della curatela artistica e do la parola grazie grazie a tutte e a tutti è molto interessante trovarsi in questo assetto a distanza ma appunto stabilire un altro sistema relazionale ancora no intorno a questo progetto Maria Angela è stata molto esaustiva e precisa in tutte le fasi che compongono questo processo artistico e io vorrei aggiungere solo veramente un paio di cose per poi lasciare la parola invece a Francesca di Angarteatri che ci racconterà il contesto che è stato creato appositamente per accogliere la corrispondenza come diceva Maria Angela il progetto è nato nel 2022 a Volterra è avuto una prima una prima esistenza a partire da un volume ritrovato un volume edito proprio a ridosso poco dopo la chiusura del frenecomio il grande manicomio di Volterra grazie alla presa in carico e la presa in cura di sanitari operatori che lavoravano nel manicomio che ritrovando le lettere dei pazienti finalmente le liberano caduta la recinzione del manicomio quindi poco dopo la legge Basaglia che oggi in qualche modo celebriamo ricordando il centenario del suo inventore di questo grande rivoluzionario da Volterra il progetto continua e continua a trieste gurizia speriamo che possa continuare in altre città e si arricchisce di fatto di una ricerca negli archivi devo dire che avendola fatta in parte anch'io essendo stata in particolare nell'archivio dell'ex manicomio di San Servolo un'isola della laguna veneziana di fronte a Venezia questa esperienza mi arricchisce ancora di più la percezione del potenziale che Mariangela Caposella attiva con questa operazione artistica che è davvero quello che in qualche modo fa eco a quello di cui parliamo per questo centenario c'è il bisogno di riparlare di marginalità e marginalizzazione e pensare invece come la società possa prendersi cura delle persone vulnerabili delle fragilità e appare come no probabilmente non si è accorto che il microfono è aperto ok quindi non era un intervento adesso se ne è accorto ok vi dicevo appunto che Mariangela prima parlava di queste lettere che non hanno che non sono uscite che non potevano raggiungere i loro destinatari perché era prassi prima della legge che gli internati come indicazione terapeutica dovessero essere esclusi confinati pur nelle loro comunicazioni quindi cosa succedeva che venivano requisite sequestrate e venivano archiviate tra i faldoni e tra le cartelle cliniche eppure queste lettere non sono nemmeno all'altezza di essere considerate dei documenti clinici o meglio lo sono lo sono per noi e sono dei documenti storici però ci accorgiamo scartabellando che non sono nemmeno registrati nelle descrizioni ad esempio degli archivisti e mi sono mi danno l'impressione di essere quasi degli incidenti degli inciampi di foglietti piccole buste pezzi di carta che non erano previsti nella storia di queste istituzioni totali e che le persone scrivevano come dei gesti di speranza estrema di urlo di ricerca di libertà molti scrivono a parenti ma qualcuno cerca di contattare il papa istituzioni ecclesiastiche e chiunque sia in grado nella sua mente di liberarlo da una condizione di sofferenza e costrizione ci sono tanti aneddoti che ho raccolto per dirvi quanto queste piccole perle tra i faldoni che descrivono lo stato di salute fisico e mentale delle persone ci raccontino di quei tempi e attraverso le micro storie delle persone ci facciano capire che cos'era anche l'Italia di quegli anni c'è per esempio tra le lettere ce ne sono due della moglie che Mussolini fa confinare nel manicomio di San Servolo nonostante non fosse assolutamente una persona con problemi psichiatrici e ce ne sono altre ad esempio di cui mi ha colpito il fatto che non fossero nemmeno state aperte tre piccole buste che per quello vi dico non hanno nemmeno avuto agli occhi di chi le ha conservate la dignità di documento perché sono rimaste incollate chiuse come si facevano prima di spedire la busta e insieme all'archivista invece stavolta le abbiamo aperte le abbiamo potute leggere chiaramente noi consultiamo nel rispetto della legge le cartelle cliniche che sono state chiuse da più di 70 anni quindi sono accessibili ai cittadini e alle cittadine come documenti del patrimonio pubblico e l'ultima cosa prima di passare la parola a Francesca è che la dimensione più importante di questo progetto mi sembra proprio la presa in carico e la presa in cura è la capacità di creare dei sistemi relazionali queste corrispondenze dall'archivio quindi dalla potenza di andare a consultare le carte a quella di ritrovarsene tra le mani per ricopiarle i copisti sono queste persone che si mettono a disposizione del progetto che ci raggiungono negli scrittori pubblici e che con il loro corpo con le loro mani ricalcano le storie per liberarle per far sì che altre persone le possano leggere e ancora una volta questa lettura non è solo un voyeurismo non è scoprire quello che era ma è una richiesta di presa in carico cioè di provarsi a immaginare un interlocutore un interlocutrice di queste persone e le persone che l'hanno fatto hanno inventato modalità diverse di rispondere immaginariamente a queste persone internate c'è chi si fingeva l'interlocutore quindi se il paziente scriveva alla moglie qualcuno si finge la moglie risponde come se potesse cambiare i fatti di quella storia triste qualcuno invece risponde dall'oggi risponde molto spesso con un impeto di con una richiesta di giustizia con il dolore che ne deriva di scoprire quante persone hanno subito delle condizioni ingiuste spacciando spacciate per cure quando di cura non avevano nulla invece oggi quello che noi cerchiamo di fare è provarci a interrogare su che tipo di cura possiamo tutte e tutti attivare che non sia semplicemente medicalizzata che non sia assolutamente l'esclusione ma che sia renderci tutte responsabili di una società più aperta che accetta le sue vulnerabilità grazie bene se adesso anche la terza relatrice vuole intervenire timida o ha qualche problema tecnico forse non la vedo connessa quindi magari hai avuto un problema di linea io provo a scriverle nel frattempo se c'è qualcun altro che vuole prendere la parola provo a scrivere a Cristina tanto faccio una domanda giusto per cominciare a rompere il ghiaccio abbiamo visto il tavolo di postali tratta la posta e qua abbiamo visto stasera un esempio molto particolare di posta scritta e non destinata destinata ma non arrivata ai rispettivi destinatari e questo dobbiamo dare atto a Maria di questa idea delle sue collaboratrici di questo lavoro fatto a Volterra nel 22 e poi completato nel 23 e adesso questo di Aperto oggi di Trieste e Gorizia però c'è una cosa che mi ha colpito e riguarda suo fratello perché anche suo fratello in qualche modo Vinicio ha toccato il mondo della posta ed è una cosa un po' strana guarda caso si svolge a Calitri il paese che prima cittava Maria dove c'era un gruppo di pensionati che ne ho descrissi anni fa e lo tirò fuori facendo proprio Vinicio che aspettava il furgone con i soldi quando il giorno è il giorno delle pensioni quando il furgone con i soldi arrivava all'ufficio postale loro cominciavano a suonare forse per questo motivo comunque quel gruppo di artisti si sono chiamati la banda della posta banda in senso musicale ovviamente perché la banda della posta in questo senso normalmente è utilizzato con un altro significato ecco bene Vinicio ha scoperto ha ripreso questo gruppo e l'ha diciamo un po' l'ha pubblicizzato tant'è vero che hanno fatto e fanno dei tour in giro è una musica molto particolare molto popolare si trova anche su YouTube e così anche come curiosità vale la pena di scoprirla insomma quindi sia la sorella sia il fratello in qualche modo sono coinvolte in questo mondo che è sempre affascinante della posta con soluzioni con idee completamente diverse da quelle che dove noi siamo noi che veniamo dal mondo del collezionismo siamo molto lontani ecco però sono altrettanto interessanti e meritevoli di essere valorizzate e il tavolo dei postali ha questo ha un po' questa pretesa quella appunto di scoprire questi mondi e cercare di farli conoscere e di cercare anche di avviare delle collaborazioni delle sinergie perché alla fine tutti siamo nello stesso ambiente pur avendo delle nicchie di sfruttamento un po' diverse detto questo io darei la parola a qualcuno a qualcun altro che vuole intervenire non tutti assieme mi raccomando intanto leggo nella chat vediamo se c'è il ecco Mitia si è scusato ma va bene capita Monica bellissimo progetto e sì poi abbiamo lì il problema di Cutini Giovanni Cutini l'abbiamo risolto che non riusciva a entrare c'è il link dato da Graziella per vedere la presentazione di oggi e direi direi basta c'è qualcun altro che vuole intervenire? sì se posso non ti avevo visto scusate no nessun problema figurati no allora innanzitutto complimenti per questo progetto perché è veramente molto molto interessante poi mi piace molto cioè i vari aspetti ecco sia del recupero di questo di questi parole ecco di questi che travalicano gli anni e i luoghi e arrivano fino fino a noi l'atto l'atto poi anche dello scrivere che abbiamo visto diverse volte in questi in questi incontri quanto sia da riprendere che quanto sia terapeutico anche proprio per chi lo compie ma questo volevo chiedere se ho capito se ho capito bene quindi la cioè chi risponde diciamo ecco chi ecco queste corrispondenze abbastanza impossibili ecco però ha la scelta di 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 risposta ecco quindi può immaginare di essere il destinatario può a cui questo paziente si si rivolgeva può scrivere come se stesso può scrivere immaginandosi di essere ancora una terza persona ok comunque ecco decide decide chi risponde il modo in cui avvicinarsi ecco al mittente esattamente sì è proprio così diventa appunto destinatario risponde nel modo si inventa il modo e la soggettività che più gli corrisponde lo spiegava anche prima Giulia sì le risposte le risposte che abbiamo ricevuto da Volterra sono tutte molto varie quindi c'è chi ha risposto in prima persona oggi cioè ieri nel 2022 23 parlando cioè rispondendo a problematiche e a richieste o a tutte le cose che appunto la lettera poteva contenere con appunto la soggettività sua vera e presente altri hanno risposto invece appunto indossando i panni del destinatario d'origine e inventandosi insomma che cosa quel destinatario avrebbe potuto dire altri 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 a volte hanno risposto con disegni o con non per forza passando attraverso la scrittura e nella varietà appunto ci sono anche tanti allegati dentro le risposte che arrivano ci possono essere delle foto hanno trovato addirittura una ciocca di capelli insomma tante cose che possono entrare dentro una busta per essere inviate quindi ecco c'è piena libertà e assolutamente è a discrezione del destinatario che appunto diventa autore della sua risposta e che quindi è padrone assoluto di rispondere come vuole ed è appunto chiamato a inventarsela appunto questa risposta in pienissima libertà che ha anche libertà di mantenere l'anonimato perché chi non vuole far apparire il proprio nome non mette la firma non mette il mittente quindi ecco c'è assoluta libertà ma è mai successo che qualcuno ha cercato di rispondere facendo arrivare poi oppure voi stessi cercando eventuali eredi parenti qualcuno che si riconosceva nella lettera che non era mai arrivata a quella persona no non è mai successo anche perché appunto c'è una distanza temporale che fa che fa sì che appunto la traiettoria sia molto difficile da tracciare e poi le lettere sono completamente anonime anonimizzate nel senso che sono appunto come dicevamo prima ripulite da tutti quegli elementi che possano fare risalire all'autore della lettera quindi non ci sono nomi non ci sono riferimenti anche a cose che appunto potrebbero fare risalire alla persona appunto e sono non so se l'ho detto prima ma non ci sono mai le copie manoscritte quindi non c'è nemmeno la calligrafia dell'autore per questo cioè le lettere sono trascritte dagli dai copisti pubblici per due ragioni una artistica e l'altra anche di legata a questioni appunto di di privacy di privacy esatto ok grazie però scusate e che cosa ne fate poi di queste lettere di queste risposte fate un libro cioè perché il fatto di impegnarsi in questo modo alla fin fine poi cade nel vuoto oppure ecco verranno raccolte così senza dare senza personalizzarle ecco senza dare oppure invece c'è un qualche altro modo di utilizzarle queste risposte cioè per capire ecco cioè sì sì la prima la allora il primo scopo il primo obiettivo quando la corrispondenza si crea appunto per esempio una tappa Volterra la corrispondenza che si è creata lì il primo obiettivo è stato quello di poter fare leggere a un pubblico questa questa corrispondenza e poi man mano che la che il progetto continua se saremo ancora in buona salute vedremo che cosa si potrà fare di questa corrispondenza quello che è in atto è sicuramente per quanto è possibile anche se costa moltissima fatica però c'è tutta una come devo dire una catalogazione c'è tutta una non si perde niente voglio dire sia delle lettere che vengono inviate quelle appunto copiate a mano sono tutte scansionate e vengono custodite in questo archivio che per ora è ancora solo funzionale e che potrà un giorno servire quando il progetto un giorno sarà chiuso spero che almeno la forma che immagino io è quella di una grande installazione dove quello che hai messo in risalto è più che altro appunto l'aspetto della della presenza dei componenti di tutte le componenti del del numero delle lettere del e anche appunto del supporto della carta quindi più un'installazione il libro ci riporterebbe in è vero che insomma non sono arrivata a una a una conclusione chiusa nel senso che il libro da una parte attira perché è il modo più semplice per rendere fruibili poi queste queste corrispondenze ma dall'altra parte non risponde appieno a quello che è lo scopo che appunto che dall'inizio si prefigge appunto di tenerle fuori dal chiuso le lettere quindi il libro confinerebbe di nuovo quindi per ora il libro non è contemplato ecco no ho capito io non è il libro ma prego un libro sul progetto scusa il libro è solo era solo un'idea non per per però il discorso mio era una risposta si risponde a una lettera ipotetica che hanno scritto comunque quindi si porta a conoscenza di noi del futuro che poi verrà riletto e quello è il discorso bisogna permettere ad altri quelli che verranno dopo di noi di capire che cosa è successo nel passato e di fare in modo che non si ripeta più ecco io quello è il mio discorso in un libro comunque un libro anche se brutto vecchio e tutto non si butta quasi mai ecco o lo si rivende si trova nei mercatini e c'è sempre qualcuno che li legge il discorso è queste cose questi avvenimenti queste lettere di gente come dite la moglie addirittura di Mussolini ecco che non era malata ecco quindi ci sarà il dolore di queste persone anche se è spersonalizzato perché non si sa chi era a meno che non si capisca ecco cioè però è il dramma vissuto da qualcuno che non ha potuto fare altro che subirlo perché è rimasto dentro un po' come quell'uomo che è rimasto in galera per 25 35 anni ultimamente in Sardegna ecco e poi noi rispondiamo a queste lettere in qualche modo ma penso che la cosa importante sia quella di valorizzare il problema che che la società del momento ha applicato a certe persone e che poi ecco hanno dovuto subire e è finita lì ecco però quello che serve o la risposta o tutto il resto è il lavoro che state facendo e secondo me quello di fare in modo che chi ci seguirà chi verrà dopo di noi perché nessuno è immortale qua capisca che cosa è avvenuto e cerchi di non ripeterlo poi ecco scusi eh se mi sono permesso di completamente ragione posso aggiungere una cosa breve su Calitri sì perché effettivamente Mariangela diceva prima che il progetto esistendo da 2022 nella sua prima tappa ha avuto quello che noi chiamiamo restituzione pubblica che è quello che dice lei anche no signor Domenico cioè come queste corrispondenze poi hanno di nuovo altri lettori elettrici quello che dicevamo prima è che magari possiamo raccontare un attimo di più è che a Calitri durante questo festival che si chiama Spons Fest e che attiva tantissime partecipazioni locali ma anche persone che si spostano per venire a seguire la programmazione del festival c'era un gruppo che Mariangela ha curato e ha composto con numerose riunioni di abitanti che sono state nominate operatrici socio-sponsate che giocavano sull'idea dell'operatrice socio-sanitaria ed erano in realtà delle guide queste guide ci accompagnavano per il paese e ci permettevano l'accesso ad alcune case che le signore e i signori di Calitri avevano messo a disposizione per la lettura delle lettere quindi si arrivava con una passeggiata accompagnata a casa della signora Pina e la signora Pina ci accoglieva dentro il suo salotto o dentro la sua cucina dove erano state predisposte queste bellissime cartelle che tra l'altro ci davano la possibilità di vedere una serie di formati di carte di colori di consistenze che erano state scelte sia per le trascrizioni che per le risposte e quindi in questi ambienti domestici c'era già questa restituzione di di queste prime di questa prima esperienza che di fatto permetteva di allargare ancora di più la relazione tra questi scritti e le tematiche che portano e le persone e sono state registrate moltissime partecipazioni quindi questo è quello che abbiamo fatto intanto tra Volterra e Calitri e adesso poi quando Gorizia e Trieste finirà capiremo qual è la forma più adatta e Mariangela si inventerà un'altra forma per restituire questa corrispondenza credo che la cosa bella sia anche cambiare in base al contesto quelle che possono essere le restituzioni di queste forme relazionali questo è giusto è bellissimo cioè va bene così però un non fa il libro e va bene ma online magari ecco per una fruibilità futura io è quello che dico perché purtroppo le nostre società ripetono sempre gli errori e tutto se uno ha dei riscontri possibili e tutto ecco è già scritto è già stato vissuto perché continuiamo a fare quell'errore oppure è lì è solo per questo che dicevo il salotto va benissimo è un modo di incontrarsi di fare società di sviluppare i pareri e tutto il resto di crescere ecco però è sempre un salotto che che raggruppa poco come anche qui noi siamo in adesso non c'è più il numero dei partecipanti ma eravamo i 25 25 ecco cioè siamo 25 di solito arriviamo anche a 50 ho visto ci sono delle sere diverse ecco poi dipende sempre dagli impegni però siamo sempre pochi cioè il discorso è che un lavoro di questo genere visto che non è che è fatto in funzione di una una persona che ha subito ma di un gruppo di un di un modo di vivere e far vivere agli altri ecco delle situazioni e quindi è meglio che non vada perso ecco che magari si brucia invece nel web rimane e almeno si spera e le cose essenziali è per quello che io intendevo ecco non certo di impegnare soldi perché poi costa anche fare libri quindi poi tanta gente non li legge non hanno voglia però ogni tanto capita ecco nel web io vi vedo che mi informo e lì magari uno si trova così per caso e capisce e si appassiona e tutto ecco intanto c'è Graziella che ha sì volevo volevo infatti dirlo che ho postato proprio per per questa idea che nulla nulla si distrugge tutto resta forse nessuno poteva pensare che all'ospedale di Santa Maria della Pietà 40 anni fa oggi ci fosse il museo della mente quindi è una è un percorso importante un percorso che che c'è oggi no che esiste quindi è tutto un divenire questo riprendere dare vita a queste lettere anche se a me posso dire mi si stringe il cuore a pensare alla sofferenza che c'è dietro ogni questa singola lettera e quanto è per quello che è un bellissimo progetto ma è un progetto veramente particolare un progetto che richiama dei momenti di grande sofferenza che purtroppo si ripetono in continuazione un po' come è come se noi non imparassimo mai niente dei nostri errori siamo in mezzo a quanti 50 conflitti mondiali guerre e andiamo avanti continuiamo sempre a ripetere gli stessi errori però insomma su questo speriamo che almeno qui nel nostro paese sia stato messo un punto fermo richiamo di nuovo Basaglia perché queste persone come diceva lui alla fine non si sa più se le persone che hanno problemi di mente sono dentro sono fuori e oggi possiamo dire che siamo in tanti fuori di mente assolutamente diciamocelo chiaramente io questa parola ormai la voglio condividere con tutti perché non lo so più chi è sano di mente e quindi va bene così oggi esiste un museo esiste questo bellissimo progetto grazie di averci raccontato ok c'è anche la richiesta di Antonietta ma siamo un attimo sul tempo passato comunque siccome è stata registrata tra un paio di giorni la lettera sarà su youtube e si potrà leggere in autonomia dall'altra parte e il programma per le prossime due serate perché saranno due non una pegnamino vuoi parlare tu del tuo intervento cinque minuti anche meno mi hai colto in contropiede anche perché se vuoi lo leggo io non c'è problema dovrei essere preparato visto che è il mio prossimo intervento comunque prima di parlare di questo volevo soltanto dire che mi ha colpito cioè non mi aspettavo una sorpresa come è stata una sorpresa scoprire che Maria Angela è la sorella di un personaggio della musica che io conosco bene avendo fatto radio per tanto tempo conosco musicalmente e non di persona e mi aggancio quindi a questo per dire che nel mio prossimo intervento si parlerà magari un po' meno di posta e un pochino più di comunicazione fare una specie di ponte tra la posta e questo anno particolare dove abbiamo quattro anniversari che riguardano il mondo della comunicazione cioè di fatto il centenario della radio il settantesimo della televisione l'ottantesimo di vita della RAI e il centocinquantesimo di Gugliano Marconi quindi il mio intervento ci porta al mondo delle radio private che sono nate proprio grazie all'esperienza di Gugliano Marconi senza i suoi studi senza i suoi esperimenti senza la sua comunicazione ben difficilmente noi potremmo fare le serate come questa e ben difficilmente avremmo potuto parlare alla radio questo per introdurre il mio argomento di settimana prossima volevo soltanto chiedere invece a Mariangela forse lo ha detto e non l'ho capito non l'ho colto io se sono tante le persone che rispondono a queste lettere come vengono scelte no non c'è una scelta delle persone c'è una chiamata a partecipazione e le persone che vogliono diventare destinatari e impegnarsi e impegnarsi a inviare la risposta mandano un messaggio sms al numero del progetto scrivendo il proprio indirizzo postale e impegnandosi a rispondere alla lettera non abbiamo fissato il tetto massimo ma sono tante di solito ci sono ci sono molte persone che scrivono appunto per ricevere la lettera per Volterra avevo inviato 490 lettere perfetto grazie sotto trovate il messaggio di Giulia per per saperne di più ah ok grazie Giulia bene io sempre riguardo all'anticipazione del prossimo appuntamento hai sempre la tua connessione che va un po' così eh Beniamino si è bloccato sì va beh quando quando si riprenderà intanto vi do anche un'anticipazione una piccola sorpresa che facciamo come tavole postali in realtà la prossima non sarà la decima non sarà l'ultima ne faremo ancora una sola molto particolare perché avrei quest'anno tra gli altri anniversari è il centocinquantesimo della fondazione dell'unione postale universale quindi un organismo internazionale un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che c'è che c'è particolarmente vicina in qualche modo la prima la prima la prima la seconda la seconda prima era lui l'Unione Internazionale delle Comune no 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 la prima è lui 65 1865 l'UIT 1874 è la posta è la posta vabbè poi controlliamo controlla controlla stavo dicendo avremo una rappresentante dell'Unione Postale Universale che parlerà di come è nata questa 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 organizzazione sarà in inglese con traduzione simultanea in italiano per cui durerà leggermente di più del solito per dare la possibilità appunto di ripetere in italiano prima in inglese poi in italiano il testo però è una cosa curiosa anche perché non capita tutti i giorni di avere a che fare con un'organizzazione internazionale che viene a parlare appunto di se stessa se non vi sono altri interventi io vi auguro buona serata buonanotte grazie per aver partecipato grazie a Maria e a Giulia che hanno che hanno portato questa significativa questa significativa testimonianza e a buona buona fortuna buona serata grazie grazie a tutti buonanotte arrivederci grazie a tutti